Questa macchina è questa sulla stabilità? Dove si va con questa macchina? Faccio sempre inserire la stampa ragazzi Però non mentre firmo una macchina così esclusiva Si può arrivare contanto con questa macchina Mister metta un'altra firma Mister un'altra firma Scriverebbe Napoli Terzo Dopo le partite siamo tutti bravi a commentare Il problema è che l'abbiamo fatto prima questa volta Un'altra firma? Un'altra firma Mi fanno parlare, firmo tutto Però ci dice cosa scriverebbe in quell'articolo? Napoli Terzo? Sì, ma ci dobbiamo fare la firma? E che madosca Una sola cosa Grazie Che c'è ancora la possibilità Mamma di grazie Dipende più da noi Direttamente Dipende da noi Da altre situazioni Quindi come ho sempre detto Sugli altri non possiamo Contarci Mandare un messaggio al Catania Di fare come ha fatto il Bologna Ma no Io credo che il Catania ci pensa da sé a fare quello che stanno facendo tutti Ma ha fatto il Bologna Ha fatto una partita Emente, importante Non ha pensato a niente È giusto che sia così E si deve fare su tutti i campi Però voi ci credete ancora? Noi ci crediamo perché noi abbiamo solo una strada Da poter battere insieme Questo lo faremo con tutte le nostre forze Poi vedremo cosa succederà dall'altra parte Andiamo Ciao Grazie